Claterna rappresenta una delle più interessanti realtà archeologiche romane dell'Emilia-Romagna. Si localizza ai lati della Via Emilia nella frazione maggio del comune di Ozzan Emilia. La città di Claterna si presume assumessa il nome dal torrente quaderna, toponimo reputato di origine etrusca che attesterebbe un precedente insediamento della civiltà ritenuta da alcuni studiosi, discendente dalla cultura villanoviana. La civiltà etrusca fiorì a partire dal X secolo a.C. e fu definitivamente inglobata nella civiltà romana. La recente ripresa degli escavi sta consentendo di ampliare le conoscenze storiche sulla città di Claterna portando alla luce interessanti novità che sono state presentate alla stampa nel corso della visita guidata del 26 luglio 2012. La visita è stata condotta da Paola De Santis, archeologa della soprintendenza e direttore dell'area archeologica di Claterna e è stata condotta anche da Claudio Negrelli, responsabile scientifico dell'associazione Civitas Claterna e da Antonella Pomicetti, restauratrice della soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna e responsabile del restauro dei rinvenimenti nella città. La seconda campagna di scavo, attuata nel corso del 2012, si è attuato col contributo di CRIF nel contesto del progetto triennale Un'antica residenza romana nel corso del tempo Scavi archeologici di valorizzazione del settore 11, realizzato da Civitas Claterna sotto la direzione scientifica della soprintendenza dell'Emilia-Romagna. Il progetto riprende le indagini in un settore dell'antica città di Claterna già scavato nell'inverno 2005-2006 con l'obiettivo di creare una seconda area di musealizzazione a nord della Via Emilia che insieme a quella della Domus dei Mosaici inaugurata a sud nel 2010 diventerà una tappa fondamentale verso la realizzazione del futuro parco archeologico. In quest'area è visibile l'ampia porzione di un edificio i cui momenti di vita più recenti risalgono al tardo antico, cioè V e VI secolo d.C., ma che affonda le sue radici storiche fra i resti di una Domus fondata in età repubblicana e abitata fino all'età imperiale. Nella campagna 2011 la ricerca si era concentrata su due edificio che occupò questa fassia della città affacciata sulla Via Emilia. In uso tra il V e il VI secolo d.C. doveva essere costituito da una serrata serie di piccole unità abitative in legno e terra che in parte riutilizzavano le murature della Domus precedente. Il suo abbandono probabilmente seguì modalità diversificate. I resti dei crolli e le strutture recuperate nel 2011, muri in laterizio di reimpiego e alzati in argilla cruda, sono dati fondamentali per la ricostruzione di parte dell'alzato dell'edificio che rappresenta il momento finale del progetto previsto per il prossimo anno. Le novità più importanti emerse nel corso degli scavi recenti riguardano comunque la fase più antica della Domus, quella forse risalente alla fine dell'età repubblicana, ovvero al I secolo a.C. Entro un ambiente rettangolare di 3,85 m per 3,40 m si sviluppa una pavimentazione in coccio pesto, in termine tecnico battuto cementizio a base fittile. Questo lastricato è decorato da tessere musive bianche e nere che compongono un motivo decorativo di tipo geometrico. Già individuato per una piccolissima porzione durante le precedenti campagne di scavo, il pavimento appare ora per la prima volta completamente scoperto. Fortunatamente si trova in uno stato di conservazione abbastanza buono e perfettamente leggibile nel disegno. Le file di tessere bianche e nere compongono un fine reticolo di quadrati, al centro dei quali sono collocati motivi a rosetta oppure singole tessere. Al centro dell'ambiente compare un campo tondo, una sorta di emblema, decorato con un motivo interno a rombi, mentre all'esterno il cerchio viene valorizzato dall'insieme di alcune crustae, lastrine marmore di forma triangolare. La tecnica costruttiva è quella ricorrente per questo tipo di pavimentazione. Al di sopra di un vespaio isolante in ciottoli era steso uno spesso strato di coccio pesto ottenuto da un impasto di calce e frantumi di laterizio, da cui deriva la tipica colorazione rossastro-rosata. Nel coccio pesto ancora fresco venivano inserite le singole tessere musive, che solitamente componevano motivi geometrici a tapeto. Il pavimento appena scoperto nel settore 11 sembra collegarsi assai strettamente ad alcuni simili ritrovati. Nella Domus dei Mosaici, settore 12 a sud della Via Emilia in particolare, ad un esempio già individuato durante gli scavi mansuelli bollini tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso, che poi vennero ricoperti.